Ora si registrerà la conferenza Buonasera a tutti e benvenuti a questa che dovrebbe essere l'ora della Fata Verde ma che in realtà è un minuto della Fata Verde, non serve perdere altro tempo quel che vedete qui è quanto è accaduto oggi, cioè nulla, resta aperto il gap non ci siamo mai portati oltre i 26.000, diciamo 60-70 punti che poi sono anche pezzi di chiusura, certo il grafico promette per domani cose migliori ma direi che spendere altre parole su quanto è accaduto è del tutto inutile per cui appuntamento a domani, ultimo appuntamento della settimana con la Fata Verde perché nel fine settimana ci occuperemo di tutt'altro con questo vi saluto, come vedete siamo stati bravissimi un aperitivo assolutamente leggero e buona serata a tutti